Nel 1971, Alfa presenta la sua nuova berlina a quattro porte, l'Alfa Sud. Dopo soli due anni, la casa di Arese decide di dare un'anima sportiva a questa macchina, togliendo due porte ed aggiungendo due lettere al nome, dando così vita all'ormai iconica Alfa Sud Ti. Ma per cosa sta la sigla Ti? Semplicemente sta per Turismo Internazionale. Questa nuova auto fa gol agli appassionati e riscuota molto successo, facendo venire ad Alfa un'idea che si rivela più che azzeccata. Decidono di creare un trofò monomarca dedicato appunto alla piccola Alfa Sud. Quest'iniziativa aveva sì, un fine promozionale, volendo conquistare anche gli alfisti più puri che la snobbavano per via della trazione anteriore. Ma soprattutto, permise ai piloti più talentuosi di emergere ad armi pari. Sappiamo tutti quanto Alfa dominava le corse in quell'epoca e fu proprio a causa degli impegni su più fronti che il campionato slittò fino al 1975, anno in cui finalmente si inizia a lavorare al progetto. Fu qui che nella nostra storia compare il nome dell'Auto Delta, che decide di mettere la firma su questo campionato diventando il suo preparatore ufficiale. Fornisce kit di elaborazione con cui ogni auto doveva essere elaborata. Kit che contenevano rollbar interno, appendici aerodinamiche posteriori ed anteriori, codolini in plastica per allungare i passaluota ed alcuni pezzi del motore. In seguito vennero montati anche due carburatori doppio corpo Weber 44 EDF e uno scarico speciale. Il tutto dava alle Alfa una potenza di circa 128 cavalli. I costi contenuti inoltre le permettevano di avere grandi possibilità per quanto riguarda lo sviluppo tecnico. Parte finalmente il campionato che mette in scena 151 gare tra il 1976 e il 1981, riuscendo ad ottenere i risultati disperati. L'auto venne promossa a pieni voti, così come il campionato, che vive tra le sue file anche piloti del calibro di Arturo Merzario. La piccola Alfa ha conquistato un po' tutti, piace tanto, a tal punto che i clienti decidono di scendere in pista con la propria TI. Dando così ragione a Alfa, che proseguì lo sviluppo di un progetto tanto ambizioso quanto di successo, lasciandoci il ricordo di una macchina che è riuscita ad entrare nel cuore degli appassionati grazie alle sue prestazioni, che pur non essendo esasperate, regalavano emozioni che oggi sono quasi impossibili da vivere su un'auto moderna. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti e fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa storia. Noi ci vediamo nel prossimo video.